Lei è Presidente della Commissione Bilancio, quali sono le novità di questa finanziaria e punti più importanti? Vediamo prima le cose positive. Le cose positive sono l'assoluto rigore con cui Regione Lombardia approva anche il bilancio 2013, la garanzia che in un momento di crisi Regione Lombardia riuscirà a pagare i fornitori, le imprese, i cittadini entro 60 giorni e a breve anche entro 30 giorni, come prevede la direttiva europea, siamo l'unica regione in Italia a ottemperare questa direttiva. Le cose negative sono i tagli, sono stati tagliati ancora oltre 300 milioni di euro, c'è una riduzione della possibilità di spesa, la Regione Lombardia due anni fa poteva spendere al netto della sanità 4 miliardi e mezzo di risorse, oggi con gli ultimi tagli e diciamo più che altro nel 2013 potrà spendere 2 miliardi e 960 milioni. Un giudizio sulla manovra finanziaria da parte del PD? Noi siamo particolarmente preoccupati in questa fase che non vengano meno alcuni elementi fondamentali di sostegno al reddito delle famiglie e dei lavoratori. Da questo punto di vista la principale criticità che in questo momento rileviamo in questa manovra è la mancanza di copertura sul 2013 dei fondi per la cassa integrazione in deroga che derivano in buona parte dall'accordo che le regioni devono fare a livello di conferenza Stato-Regioni ma che vista l'insufficienza di questi fondi richiederà anche da parte di Regione Lombardia la messa a disposizione di proprie risorse, cosa che nella manovra attuale così come ci è stata presentata dalla Giunta non è previsto.